Prelimini card IMAF, il primo incontro, abbiamo nell'angolo blu Alex Nigru, Team Nicosia, 66 kg la categoria, angolo blu Alex Nigru, Team Nicosia, eccolo qui che arriva, 66 kg, 3 match da 3 minuti, angolo rosso, Team Ungun, Kutar Ghera, un bel applauso a questi van wolfa, E pami, 3 Imm嘉eses, si Americano, gold cow regalo, Ges Gesundungen, 中國ivals di un progetto diciamo che non si potrebbe salire, chi è la mola? Allora, vai guadили all'infezione, chi è la bar dettaglia! Ehi, stai sopra, sopra. Ora voglio entrare, il braccio dentro e levi tutto. molto bene ottimo un minuto che era che è su sta guardia eccolo si 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 non cazzate voglio me lo stabilisco si attira non devi tenere l'altra non è in mezzo eccolo sta guardia sempre sulle mani sulle mani bravo eccolo 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 sotto sopra sotto sopra sotto sopra non lo fai alzare mettiti qualche logo vai lo fai alzare ora vai pure per passare ok pure passare scaricato si esatto 30 secondi metti un logo lo fai alzare 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 un bel applauso grande incontro bravissimi grazie a tutti guarda la gamba guarda la fidanza della gamba Alex guarda la fidanza della gamba Alex guarda la fidanza della gamba guarda la fidanza della gamba guarda la gamba guarda la fidanza della gamba guarda la fidanza della gamba Mirami sul suo chietto! Bravo! Aspetta, aspetta, vanno a tornare vicino! Aspetta! Esatto, lì devi stare! Guardalo! Guarda l'istante e metti in sinistro! Otto! Otto! Vai là! Aspetta, aspetta! Forza, pressione! Non lo fai rialzare! Trolla le tibie, mani sulle tibie e passi! Forza! Pressione! Sotto devi andare tu! Vieni a fare spazio! Eh! Oh, vai! Prendi! 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 Oh, vai! Eh! Oh, vai! Guarda, guarda, guarda così! Devi passare! Passa al piedi! Passa! Che era anche furtata in mezza quartia. Passale, vai giù! Esatto, via, 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 ora dentro con i bracci e stai lì, vai là anche in mezza guardia va bene, continui ad andare, un minuto Kera scendi in mezza, scendi in mezza guardia, scendi là, Kera devi scendere giù anche in batter fly, vieni giù. Oh, e scarica a sinistra, vieni, respira, libera il colso a sinistra, leva la testa e così, 30 secondi Kera, oh. Sì, bravissimo, vai su, vai su, vai su Ale, vai su Ale, non è niente, spingisci sul braccio suo, spingisci sul sopra. Scalare dietro Kera, devi scalare dietro, rimani sopra, 5 secondi. Lorde Sardegna Guardia, guardia. Grazie. 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 Grazie alla strada. Posca al soltanto. Sproll. 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 Buono. Controlla lì. Una ghigliottina. 30 secondi. Nient'era. Sproll. Step down. Passi dietro. Passaggio dietro. Passaggio dietro. Vieni sopra. Vieni sopra. Vieni sopra. Cospera. Passa. Lo rubiamo. Guarda il piede. Guarda il piede. Guarda il piede. Guarda per il piede. No. Guarda. Vai sole. Vai sole. Il piede d'ore. Grazie. Vieni. Brava bene. Grazie. Grazie. Un bello applauso, un pochino più forte, forza, bravissimi che si è tretti. Allora, io direi prima di annunciare il vincitore di fare un bellissimo applauso perché è stato un match veramente bello. Vince per verdetto unanime 30 a 27 l'angolo rosso Cuperchera!